Una giornata importante, finalmente dopo tanti anni di attesa arriva il registro tumori delle marche, uno strumento di grandissimo valore per tutti i professionisti che lavorano nel territorio, per chi fa attività di prevenzione, per poter avere uno strumento di analisi e di lavoro di grandissima importanza. Fatta questa prima edizione che va a recuperare determinati anni, è molto più semplice poi continuare su questa strada, avere aggiornamenti costanti di questo dato, costruire una vera propria banca dati al servizio della salute dei marchigiani. Era un'anomalia come Regione, che è sempre ai primi posti, a libero nazionale, sulla qualità dei servizi sanitari, non avere questa dotazione. Andiamo a colmare una lacuna importante, con la volontà e lo spirito di offrire sempre di più, in termini di salute, ai nostri cittadini.